Bentornati in questa serie di tre video dedicati alla paura di sbagliare e come affrontarla. Se hai perso i video precedenti sulle conseguenze della paura di sbagliare e sui benefici dell'errore, ti invito a visitare la descrizione del video, lì troverai i link dei video. Oggi invece lavoreremo insieme per capire cosa c'è all'origine della paura di sbagliare. Prima di andare ad indagare cosa c'è all'origine della paura di sbagliare, è fondamentale fare una piccola precisazione. La paura di sbagliare è normale ed è connaturata nella natura umana. Tutti noi abbiamo paura di sbagliare, tutti noi abbiamo paura di commettere errori. La situazione diventa più complessa quando invece la paura di sbagliare interferisce con la nostra quotidianità. Quando ci blocca e ci impedisce il movimento, ci impedisce di agire nella nostra vita. A quel punto è fondamentale fare un'analisi in più. Adesso cerchiamo insieme di capire cosa c'è all'origine della paura di sbagliare. Paolo è un ragazzo di 22 anni che studia all'università architettura. Mi chiede aiuto perché negli ultimi anni si è bloccato negli studi, non riesce a sostenere gli esami. Mi dice che quando pensa di dover sostenere un esame ha un'enorme paura. Sottolinea il fatto che sia una persona che tende a prepararsi alla perfezione, ma nonostante sia consapevole delle sue capacità e della sua preparazione, la paura è superiore e lo blocca. Cerco insieme a Paolo di capire cosa c'è alla base di questa sua paura e gli chiedo cosa secondo lui accade se viene bocciato un esame. Egli dice che non ci ha mai pensato perché per lui sarebbe una catastrofe, vorrebbe dire che è un incapace. La storia di Paolo ci dà un grande insegnamento. Molto spesso all'origine della paura di commettere errori, vi è la tendenza a generalizzare e a dare un significato catastrofico all'evento. Mi capita molto spesso infatti di sentire persone che attribuiscono un significato catastrofico all'eventualità di commettere errori. Vivono l'errore come una valutazione del loro valore personale. Non è raro infatti ascoltare persone che dicono che se sbagliano significa che loro sono un fallimento, che sono delle persone incapaci oppure che non valgono nulla. Questa tendenza a generalizzare e a catastrofizzare il significato dell'errore porta le persone di conseguenza ad avere un'enorme paura di sbagliare. Se vogliamo superare la paura di commettere errori, è fondamentale ridimensionare il significato catastrofico che attribuiamo a questa eventualità. Imparare a vedere l'errore e lo sbaglio per quello che sono, ovvero un errore di strategia. L'aver commesso un errore non ha nulla a che fare col nostro valore personale. Il fatto di aver sbagliato significa che non abbiamo messo in atto la strategia adeguata, ma questo non significa che siamo completamente incompetenti, incapaci o che non valiamo nulla. Semplicemente che abbiamo commesso un errore in quella situazione. Se vuoi quindi superare la paura di sbagliare, comincia a smontare la tua catastrofizzazione, il significato eccessivamente negativo che attribuisci all'errore. Spero che il video ti abbia stimolato a comprendere cosa c'è oltre la paura di sbagliare. Se ti è stato utile, mi farebbe piacere che tu lo dicessi con un like e se hai altre domande su questo argomento, scrivi tutto nei commenti qui sul mio canale YouTube e io cercherò di risponderti. Grazie.